Aggiornamento Covid non si arresta la curva dei contagi. I nuovi positivi sono in aumento così come in aumento è l'indice RT. Dunque è in pieno corso la quarta ondata pandemica. Certo i numeri non sono quelli dello scorso anno. Lo vediamo nel servizio che segue. Salgono in Italia i contagi da Covid ma ricoveri e terapie intensive restano sotto controllo mentre le terze dosi di vaccino hanno quasi raggiunto quota 3 milioni. Il tasso di positività è all'1,7%. L'Italia è ormai entrata nella quarta ondata pandemica. La curva dei contagi sale ma certo non con i numeri di un anno fa. Proprio a metà novembre dello scorso anno infatti veniva collaudato il sistema delle regioni a colori. Erano vietati gli spostamenti in entrate e in uscita tra i territori in rosso e arancione e di vieto di circolazione dalle 22 alle 5 di mattina. Il tasso di positività toccava il 16%. I contagi superavano le 40.000 unità. Oggi i numeri sono molto diversi e questo grazie alle vaccinazioni che in questo momento permettono anche di pensare alle festività con una relativa tranquillità tenendo sempre conto dell'andamento epidemiologico del virus. Per questo il ministro Speranza chiede di insistere su richiami, prime dose e comportamenti corretti, ovvero mascherina, distanziamento e igienizzarsi frequentemente le mani per limitare eventuali misure restrittive. In Italia stanno crescendo i contagi ed è necessario alzare i livelli di attenzione, ha aggiunto Speranza. L'86,75% degli italiani è vaccinato con la prima dose e l'84,12% con ciclo completo. La vera differenza, ha detto Speranza, la fanno le vaccinazioni. Vaccinazione che in Puglia non conosce sosta. Oggi è stato somministrato il 90,3% delle dosi di vaccino anti-covid rispetto a quelle ricevute dal commissario straordinario. E sempre in Puglia resta stabile al momento al 4% la percentuale di occupazione della terapia intensiva. Lo stesso dicasi per i ricoveri in area non critica. Il tasso di occupazione è fermo al 6%. Veniamo ora ai contagi. Oggi in Puglia, secondo i dati diffusi dal bollettino epidemiologico della Task Force regionale, su 16.160 test eseguiti sono stati accertati 132 nuovi positivi. Uno è il decesso, 53 nuovi positivi sono nella provincia di Bari. Due nella BAT, uno nel Brindisino, 39 nel Foggiano, 23 nell'Eccese, 6 nella provincia di Taranto. 3.821 sono le persone attualmente positive, 162 ricoverati in area non critica, 21 invece si trovano in terapia intensiva. Sono questi numeri molto diversi da quelli di un anno fa. Il 15 novembre 2020, su 6.070 tamponi processati, furono registrati 905 casi positivi. 201 nella provincia di Bari, 102 nella provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 121 nella provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 124 in provincia di Taranto. 12 invece furono i decessi, 5 nella provincia di Bari, 2 nella BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 nel Foggiano e 1 nel Tarantino.